Barter ci ha fatto vedere questa azienda di cui tutti voi siete probabilmente orgogliosi e fate bene ad essere orgogliosi, perché è un'azienda che sta dimostrando con i numeri come si può affrontare un tempo di crisi andando a prenderci il futuro senza restare ad aspettare. È un'azienda che è l'azienda che forse più di non tutte le altre, ma più di tante altre, accolto l'occasione dell'Expo, il Padiglione Italia, il Padiglione degli Emirati Arabi Uniti e con tutto quello che poi sarà interessante per l'Expo di Dubai del 2020, il Padiglione della Bielorussia, poi in quella... la Svizzera, la Germania, le fatti tutti, non c'è la Germania, ne fatti tutti, ma nove Padiglioni, fatevi un applauso perché è il segno che Barter me l'ha detto in un orecchio mentre camminavamo insieme, ha detto io avverto che ci sono i segnali di ripresa, però bisogna essere pronti, bisogna avere le idee fresche, bisogna essere desiderosi di ricoglierla questa ripresa. E questo è il fatto positivo, l'Expo, non soltanto l'Expo, abbiamo parlato di tante grandi sfide che ci attendono nelle prossime settimane anche negli eventi prossimi, è di ieri la notizia che l'Italia ha vinto i mondiali di sci del 2021 a Cortina, insomma ci sono tanti segnali che il paese ha voglia di ripartire